Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Siccome nel video prima vi ho parlato della mia presentazione personale, adesso nel secondo video vi voglio parlare di due cose. Uno, che è Lukaku è andata all'Inter. Alla fine, dopo questa lunga tenere non vera Lukaku è andata all'Inter, perché settimana scorsa lo davano a Juve con lo scambio di Dybala. Siccome tutto ciò non è successo, l'Inter ha fatto il passo avanti per Dybala. A proposito di Dybala, Dybala è ancora a Torino. A Tortilla non è andato perché Uri Dybala ha detto di no. Voglio stare a Torino. Non è che succede che adesso Dybala va all'Inter e i cardi venga da noi. Tutto può succedere ragazzi. Preparatevi a questo mese caliente di calcio meccato. Nel secondo video vi voglio parlare della partita di Jey de la Juventus. Juventus-Novala 4-0. Con gol di Guain nel primo tempo e gol di Dybala, di Manjugic e di De Ritt nel secondo tempo. Partita dominata da noi. Vabbè, continuo Bara. Ne resta questo grande avversario. È una partita di preparazione specialmente per la partita di sabato con l'atletico che sarà dura per noi. Sarà più dura per noi ragazzi. Quindi dobbiamo allenarci bene per iniziare bene questo campionato ragazzi. Quindi forza ragazzi. Sempre uniti. In gruppo. E avere un bel gioco ragazzi. Quest'anno bisogna avere un bel gioco. Voglio vedere un grande gioco. E già lo sto intravedendo. Quindi forza ragazzi. Crediamoci. E fino alla fine forza Juventus. E anzi, innanzitutto, prima che vi saluto. Iscrivetevi al canale. Forza ragazzi. Voglio le iscrizioni. Quindi iscrivetevi al canale. E chiunque si iscriva a questo canale non se ne pentirà. Anzi, vi piacerà moltissimo questo canale. Quindi seguitemi. Dopotutto, fino alla fine forza Juventus. Ciao ragazzi. Buona serata. Ciao. Ciao.